Il Judo ha sostanzialmente quattro pilastri fondamentali, due riguardano la parte pratica e due la parte intellettuale. La parte pratica è il Randori e il Katà e chiaramente dentro il Randori ci sono tutta una serie di esercizi che consentono l'apprendimento del Randori e nei Katà anche lì come utilizzare questo esercizio in rapporto al Randori, cioè l'uno dovrebbe completare l'altro. Gli altri due pilastri sono Koji e Mondo. Mondo, sapete tutti, era domanda e risposta Koji è la conferenza che il maestro dovrebbe fare una volta a settimana, una volta ogni due, una volta al mese o quando serve. Nella visione del fondatore dice che l'allenamento intellettuale è tanto importante quanto quello pratico. L'importante è che non ci sia conflitto in termini di tempo, cioè l'uno deve essere separato dall'altro. Purtroppo nei nostri dojo per ragioni pratiche di tempo non si riesce a, se fai una chiacchierata diciamo così informale sul tema che decidi di trattare, indubbiamente porti via tempo alla parte pratica. L'ideale sarebbe dedicare tempo alla parte pratica e poi dedicare tempo alla parte teorica. Di base non c'è una buona pratica senza una buona teoria e viceversa, non c'è una buona teoria se non c'è una buona pratica. Detto questo la visione del fondatore dice abbiamo visto, e questo anche a quel tempo, che la gente pratica meno volentieri il kata. Perché pratica meno volentieri il kata? Perché è meno divertente. Chi pratica judo vuole confrontarsi e si diverte di più a fare il randori. Chiaramente nel fare questo si evidenziano poi dei disequilibri. Perché quando facciamo il randori tendiamo a fare quello che sappiamo fare meglio, quello che ci dà più risultato. E quindi lavoriamo con certe parti del corpo sotto forma di proprio impegno muscolare e ne trascuriamo altre. Difficile che si riesca a trovare un judoka che esegue tante tecniche a destra, tante a sinistra, alla stessa maniera, con la stessa abilità, con la stessa intensità, per cui il corpo si sviluppa in maniera equilibraza. Perché comunque dice quello che è importante è che il randori è vero, sviluppa bene il corpo di chi pratica. Però, insomma, per questi motivi non riusciamo a completarlo. Allora il kata dovrebbe riuscire a completare questo disequilibrio. Vi volevo leggere un passaggio che... Dunque, la pratica del judo nel dojo. Il judo nel dojo dice allenarsi per vincere. Riguardo a cosa insegnare in dojo ai praticanti, dobbiamo dire che si tratta ovviamente di un argomento assai vasto, per cui limiteremo la trattazione a due punti. Il primo concerne l'atteggiamento durante la pratica quotidiana del randori. Il vero scopo non è rappresentato dalla lotta contro un avversario. Dal momento che è interessante combattere per vedere chi vince, gli incontri avvengono quotidianamente. Non è necessario sottolineare che essere in grado di dibattere qualcuno è parte integrante di questa pratica. Ma esiste una bella differenza tra allenarsi per vincere in futuro ed essere ossessionati dall'idea di vincere oggi. Questo è un messaggio secondo me importante. E io l'ho detto più volte. All'epoca quando lo dicevo non avevo ancora letto quanto Cano afferma in questo scritto. Però c'è un modo di operare per costruire un'abilità che dura nel tempo e c'è un modo di operare per ottenere un risultato immediato ma che come viene veloce se ne va veloce. Al fine di vincere oggi la cosa migliore per una persona forte è usare la propria energia contro quella dell'avversario. cioè la forza. Tuttavia se ci si scontra con un antagonista molto più forte naturalmente si perderà. Quindi il risultato è che se tu fai un confronto basato sulla forza il risultato è matematico quando trovi uno che è più forte di te. Pertanto anche uscendo sconfitti da diversi incontri la corretta pratica del rendering consiste nell'apprendere ad eludere abilmente l'avversario adeguandosi alla sua forza tanto da fargli perdere l'equilibrio per poi approfittare di tale opportunità. Se vi impegnate in questo tipo di allenamento per un certo periodo potrete anche essere atterrati con la torsione di un braccio a fondo ma se vi estenete dal farlo non imparerete mai a battere un avversario più forte. E' chiaro l'aneddoto di Cano quando a un certo punto aveva nel dojo, primo dojo, un certo Ken Kiji che era grande, imbattibile, questo sembrava, era uno che faceva, lavorava forse nel mercato della pesca, quindi sollevava le casse, insomma, e strumento piccolino che studiava come atterrarlo, come atterrarlo, a fare le sue ricerche e arriva un giorno che facendo randoli con questo Ken Kiji gli piazza un Kataguruma e questi non lo conoscevano Kataguruma e lui faceva lo spiritoso dicendo penso che lo chiamerò Kataguruma ma già aveva visto che era stato chiamato così. Le ricerche andavano anche oltre i confini del Giappone. Si tratta solo di un esempio, per citare un altro dei miei allievi, qui parla di Shiro Saigo. Shiro Saigo era uno che piccolino, un metro e quarantotto, quello che è passato alla storia del judo per essere più grande esperto di Giamma Rashi, una tecnica che sembra che nella storia del judo ha tirato solo lui. Insomma era uno perché era piccolino, insomma veniva spesso atterrato dai compagni di pratica. Lui si concentrava non tanto nel fatto che non doveva farsi atterrare, ciò gli è consentito di capire che cosa fare dopo essere stato proiettato e di apprendere il modo di schivare. Alla fine non si preoccupò più di essere atterrato. Cioè la preoccupazione di stare duri per non cadere. Deve sparire nella pratica del randoli questa idea di preoccuparsi che qualcuno ci proietti. e quindi io tolgo tutte le mie unità di attenzione all'attacco perché sto pensando a difendermi. Se non ho questa preoccupazione tutta la mia capacità si può concentrare sull'attacco. Dice a tal proposito, il fondatore, ho fondato un'espressione, la migliore difesa è l'attacco. Se fin dall'inizio si pensa solo a vincere è difficile riuscire nell'intento. chiaro, quindi bisogna essere un po' umili, non cercare subito l'immediato. Onde sviluppare la forza che consentirà un giorno di battere un avversario. Bisogna accontentarsi di praticare perdendo un certo numero di incontri. Quindi per riuscire in un intento superiore devi accettare anche che puoi essere sconfitto. Quindi anche all'epoca la gente assumeva atteggiamenti di questo tipo. Il motivo alla base degli errori cui si assiste oggi è che le persone hanno dimenticato che praticare i randoli significa combattere seriamente. Se lo fate vi accorgerete che la posizione con le anche basse, le gambe aperte, quindi anche basse, gambe aperte, la testa inclinata in avanti è estremamente svantaggiosa. È evidente questo. In quanto il volto e il torace sono vulnerabili agli atemi. Gli atemi sono tecniche per colpire. Fare riferimento talvolta a Shikenshobu Vaza, cioè tecniche del combattimento reale, ci aiuta a capire che la posizione che noi dobbiamo assumere, la migliore, la più mobile, la meno dispendiosa, è Shizenontai. Cioè se noi pensiamo... E qui c'è un aneddoto interessante che è capitato a me. Perché a un certo punto sempre io dico riflettiamo quello che facciamo. Ho scoperto che per spiegare gli Osa e Vaza, ho spiegato che probabilmente questo controllo dell'Osa e Vaza poteva migliorare se pensavo che l'avversario potesse colpirmi sulle parti più deboli, il viso, i testicoli o quant'altro. Quindi se io assumo una posizione nel controllo per non essere colpito imparo meglio il controllo. Fate la prova e vi rendete conto che questo funziona. In occasione del mio ultimo incontro con il signor Occano a Digione, sono intervenuto e ho detto questa mia teoria e il signor Occano, forse per una questione di lingua, mi perdoni signore ma io sono dell'epoca del judo, quindi non era previsto gli atemi. Chiaramente non aveva stato tradotto bene, non aveva capito bene quello che io volevo dire. e poi il fatto che Fano dice questa cosa rafforza, no? Questo quando voi pensate a qualcosa e poi pur non avendo avuto niente a che fare con qualcun altro, arrivate che l'altro vi dice la cosa che voi pensavate, no? Queste sono quelle che noi chiamiamo le conferme. Quindi la metodologia, dicevamo ieri, può cambiare, no? A secondo il territorio, la cultura, le circostanze, a secondo delle persone, no? Probabilmente se domani io dovrò fare un'altra lezione di questo tipo userò un altro metodo. Ieri mattina abbiamo dovuto adattarci alla situazione, ieri pomeriggio abbiamo dovuto adattarci ad un'altra situazione, stamattina ad un'altra ancora, pur fissando sempre il tema. Cioè se noi abbiamo un'idea chiara di che cosa dobbiamo trattare, poi troviamo la strada per migliorarla. L'assenza di un'adeguata considerazione di questo principio è la radice di tutti gli errori odierni. Quindi sta parlando del 1800, eh? Quindi nel 1800 c'erano gli stessi problemi che ci sono oggi, in questo senso. Pertanto dovete allenarvi quanto più possibile mantenendo una posizione naturale, senza mettere in tensione il corpo, soprattutto braccia e gambe, e rimanere tanto rilassati da potervi muovere liberamente. In alcuni casi è accettabile la deduzione di una postura difensiva, ma solo temporaneamente. Ogni volta che è possibile si deve mantenere una posizione naturale. Bene, pensate al vostro randori con i vostri compagni. La maggior parte di coloro che praticano il judo in un dojo dedicano tutte le loro energie a randori e tendono a trascurare la pratica dei kata. Quindi anche Kano rivedeva questo aspetto. La ragione è che poiché comporta un allenamento competitivo il randori è più divertente, dicevamo prima, dell'addestramento molto formalizzato dei kata. Tuttavia non è bene perseguire soltanto ciò che ci interessa. Se qualcosa comporta dei vantaggi è necessario praticarlo a prescindere dalle emozioni che è suscita in noi. Quindi diciamo che qui chiede un atto di fede. Anche se mi piace meno devo studiarlo e praticarlo. Io aggiungo anche che se una cosa la fai alla fine la comprendi di più e sai il beneficio che ti può portare. Prendiamo il kimeno kata dove ci sono degli atemi che sono rimasti proprio in quell'esercizio. Comunque sia, essendo una disciplina di attacco e difesa, se non pratichiamo gli atemi non sappiamo tirare né calci né pugni. Infatti i giudoisti sono imbranati a tirare calci e pugni. E poi dice se qualcuno tende a colpirvi in maniera diretta dall'alto al basso, se non siete abituati e non vi allenate a schivarli, a controllarli, quando questo accade realmente non siete in grado di difendervi da una situazione del genere. Io aggiungo il fatto che delle volte inserisco delle tecniche del kimeno kata perché vedo che è difficile far comprendere di assumere una posizione diritta del busto. Il busto, dal punto di vista dell'educazione fisica, è composto dalla testa, collo, tronco e bacino. Quindi assumere una posizione di bakigatame in qualche modo mi educa a riflettere sulla mia postura. Poi si può chiarire che questa è una posizione statica e questa è una posizione più dinamica. Quindi Shizenonte mi fa essere più mobile. Però solo la pratica relativa, anche con tutte le accortezze che abbiamo visto ieri, su Tai Renchu, Tandoko Renchu e così via, la posizione dei piedi sicuramente ci aiuta, ma solo la pratica libera non è equilibrata. Se dobbiamo un giorno mostrare che cos'è la nostra disciplina, dobbiamo per forza riuscire anche a presentare un esercizio di forma. Grazie.